Ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi voglio chiedere tipo Voglio chiedere delle barzellette a google, questo video visto che non sapevo cosa fare come ho detto negli scorsi video Chiediamo delle barzellette a google, allora Mi racconti una barzelletta? Puoi ripetere? Mi racconti una barzelletta? Mi racconti una barzelletta? Puoi ripetere? Non ho capito Perché i libri di matematica sono sempre tristi? Perché hanno troppi problemi? Dai 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 C'è raga ma ok Mi racconti una barzelletta? Puoi ripetere? Non ho capito Oddio odio quando fa così raga Mi racconti Puoi ripetere? Non ho capito Eh grazie al cacchio, non ho detto niente Scusate ho chiuso la finestra che si sentono i rumori da fuori Mamma mia Puoi ripetere? Non ho capito 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.